È una giornata storica comunque oggi per Giuliano, un ritorno in Serie D è sempre qualcosa di importante quando si ricomincia da zero, tornare in un campionato nazionale, motivo d'orgoglio per Piccioni che ha avuto il merito di riportare questa squadra dove merita. No, guarda, io dico che innanzitutto ringrazio per i complimenti eccetera, però questa è una vittoria principalmente dei giocatori della società perché loro sono stati gli artefici principali. Io ho cercato di fare meno danni possibili e diciamo che i principali attori sono tutti i giocatori e la società tutta e questo pubblico che è inutile dire che è sprecato per queste categorie. Il futuro di Attilio Piccioni sarà ancora Giulianova il prossimo anno, forse in una veste diversa? Sì, sì, diciamo che abbiamo concordato, dobbiamo definire il tutto, però c'è l'accordo su tutto con la società, sarò il responsabile dell'area tecnica, quindi probabilmente con responsabilità ancora maggiore di quelle dell'allenatore e questo mi fa piacere perché vuol dire che la società ha apprezzato il mio lavoro. Ed eccolo l'eroe della giornata, nella giornata che ha riconsegnato a Giulianova il campionato di Serie D, Gian Piero Francia, una tripletta che ovviamente resterà nei tuoi ricordi per sempre. Ma credo di sì, perché vincere un campionato, poi fare tre gol, credo che sia, si immagini soltanto nei sogni, quindi sono contento ma soprattutto sono contento di aver raggiunto insieme alla squadra questo obiettivo per noi importantissimo. E per un giuliese come te ovviamente questa promozione ha un sapore particolare? Beh sì, l'emozione è tanta perché comunque abbiamo tutti insieme perlomeno riportato Giulianova in una categoria importante che è quella della D e poi vedremo di porci altri obiettivi, però per il momento quello che avevamo promesso l'abbiamo mantenuto. Hai un po' anticipato la mia domanda, la Serie D deve essere un punto di partenza e non di arrivo per una piazza che per tantissimi anni ha giocato nei campionati professionistici. Sì, però non ci dimentichiamo che la D comincia ad essere una categoria molto importante, molto impegnativa, quindi adesso un attimino secondo me dobbiamo fare tutte le cose con calma, perché poi la fretta fa fare brutti scherzi. Però già riportarla in due anni in D è stato un grande obiettivo raggiunto. Poi è chiaro che Giulianova non merita neanche la D, però ecco, non ci dimentichiamo che due anni fa l'anno scorso eravamo in promozione. Sì, l'avevamo detto, a Giulianova non si possono fare le cose, per scherzare. D'altra parte avete visto in eccellenza come si festeggia per aver vinto un campionato sicuramente importante, però ecco la risposta della piazza quando fai le cose per bene. Avevamo detto ai Giuliesi e gli avevamo parlato di un programma, lo abbiamo rispettato fino adesso, per tre quarti. Adesso credo che dobbiamo regalargli la ciliegina sulla torta, perché avevamo detto che tre anni vogliamo vingere, la Serie D non la facciamo passeggiando, questo devono sapere tutti. Intanto noi da martedì, pomeriggio, inizieremo a costruire la Serie D importante per Giulianova. A proposito di martedì pomeriggio, ci sarà da iniziare a pensare quale sarà l'allenatore del Giulianova nella prossima stagione. Piccioni, anche ai nostri microfoni, ha confermato che sarà il direttore tecnico del Giulianova, dovrà arrivare un nuovo allenatore. Ci avete già pensato, avete già il nome? Allora, Piccioni sarà il responsabile dell'area tecnica, e quindi vediamo un attimo anche come struttureremo il settore giovanile, e questa è una cosa che abbiamo già deciso. Guido Di Fabio potrebbe essere un nome per il Giulianova? Guido Di Fabio ha un curriculum calcistico, e quindi dal punto di vista anche del gradimento della città è importante, che non va sottovalutato. Ma Guido Di Fabio sarà ovviamente sottoposto a una chiacchierata nel momento in cui riceviamo una sua eventuale disponibilità per capire, per spiegargli quello che vuole fare la società, conoscere lui personalmente, capire un attimo come ci si può strutturare al meglio. In realtà ci sono tanti giocatori esperti che hanno fatto la differenza, Fuschi, Del Grosso, Borghetti, ma come questi, come tutti i ragazzi che poi hanno mantenuto le aspettative, perché poi si dice sempre, ok, bisogna vincere, però poi vincere non è mai facile, quindi ci troviamo a chiuderla oggi davanti al nostro pubblico, che comincia ad essere numeroso. Speriamo che sia un buon punto di partenza e non di arrivo.